ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale siamo alla seconda parte del wrap up delle letture di luglio vi lascio qui sopra il video in cui parlo delle prime tre letture in realtà non in ordine cronologico ma appunto di tre libri che ho letto a luglio proseguo qui con gli altri quattro gli ultimi due sono due audiolibri quindi se non siete particolarmente interessati sappiate che li tengo come sempre per ultimi cominciamo con un titolo che ho letto titolo che avevo ricevuto in scambio da federica le citazioni della fe e si tratta di la natura esposta di henry de luca questo era il mio secondo titolo di questo autore dopo aver letto tu mio lo scorso anno e aver molto amato quel titolo c'è stata l'occasione di scambiare un libro con federica e ho scelto questo perché dopo tu mio mi era proprio rimasto il desiderio di continuare a leggere questo autore henry de luca ha una scrittura che è delicata come una poesia eppure riesce ad essere una prosa veramente descrittiva ricca e soprattutto veramente molto evocativa ha uno stile che mi ha fatta innamorare di questo autore forse non lo stile più incisivo perché è veramente uno stile molto delicato e molto poetico però ha un qualcosa che secondo me ti rimane dentro alla prima lettura e poi ti spinge a voler continuare a conoscere questo autore in particolare la natura esposta si concentra sul tema dell'arte da un certo punto di vista è uno strano libro perché è ambientato tra mare e montagna e questa cosa mi è piaciuta moltissimo perché credi di aver capito che tipo di atmosfere ci saranno in questo libro e poi cambia tutto noi cominciamo conoscendo il nostro protagonista che vive in un paese di confine che aiuta le persone a le persone in difficoltà le persone che hanno bisogno a valicare questo confine e che vive un po di tante attività di tanti mestieri in una piccola comunità è un uomo indurito dal tempo ma e forse anche dal tipo di vita che fa ma allo stesso tempo di una profondità e di una intensità incredibili a causa di un evento lui si dovrà allontanare da questo paese di montagna troverà diciamo rifugio in un luogo di mare e arriverà a ottenere una commissione che è quella di restaurare e ripristinare lo stato originario di una scultura di un crocifisso ci sono tantissime riflessioni che riguardano in maniera un po tangente in realtà la religione e l'arte ma ci sono soprattutto tantissime riflessioni sull'umanità in questo libro ed è secondo me quello che a Derri De Luca almeno per quel poco che ho letto di suo mi sembra sia quello che a Derri De Luca viene meglio quest'uomo si ritroverà a fare i conti con una serie di scelte della sua vita con una profonda umiltà che secondo me in qualche modo gli impedisce di emergere come come dovrebbe ed è quello che lo ha portato anche alla fine dell'unica grande storia d'amore della sua vita con una donna che avrebbe voluto vederlo emergere di più nella sua vita avrebbe voluto puntargli quasi dei riflettori addosso e lui non l'ha mai voluto quindi questo personaggio veramente profondissimo e allo stesso tempo di un'umiltà incredibile mi ha veramente conquistata e in più è molto molto interessante tutta la riflessione appunto intorno all'arte e che tra l'altro porterà il nostro protagonista anche a fare un viaggio a Napoli e riconoscere dei posti che amo tra queste pagine è stato una sensazione fortissima quindi è un libro che se cercate delle riflessioni profonde scaturite magari da appunto l'arte l'arte sacra in particolare vi piacerà tantissimo e ci sono un po' delle implicazioni tra il sacro e il profano secondo me in questo libro che sono molto interessanti quindi io me lo sono goduto tantissimo Henry De Luca è un autore che io voglio pian piano continuare a conoscere libro dopo libro mi piace molto che i suoi libri siano brevi ma veramente molto intensi si ha la sensazione proprio come nella scultura di cui si parla in questo in questo testo che non ci sia niente di più niente di superfluo che tutto sia molto esposto molto nudo e allo stesso tempo essenziale quindi veramente un'altra bellissima scoperta di questo autore e non vedo l'ora di continuare appunto a conoscerlo la prossima lettura ve la metto qui diciamo per la copertina perché l'ho letto in cartaceo ma l'ho portato ad uno scambio e si tratta della ragazza con la pistola di Amy Stewart questo è un testo che avevo ricevuto qualche mese fa durante un book swap e che avevo un po in un angolo della mia perché ne avevo letto un piccolo estratto per il progetto cinque libri in un giorno vi metto qui sopra il video e mi era un po rimasta la curiosità di andare avanti è un libro godibile ma dal mio punto di vista considerando le premesse veramente molto forti è un libro troppo troppo leggero purtroppo devo dire che ci sono rimasta un po male perché considerando che si tratta di una storia vera cioè che parte da una storia vera ovvero quella della prima donna sceriffo degli stati uniti avrei desiderato un po più di intensità e di profondità noi seguiamo le tre sorelle cop la protagonista è constance una donna che per il suo tempo è un po fuori dall'ordinario è una donna già di 35 anni quindi stiamo parlando di inizio novecento quindi era già considerata diciamo ben più che una signora e una donna che non ha mai voluto sposarsi e che vive con le due sorelle anche loro nubili in una fattoria constance le sue sorelle vengono travolte con il loro calesse in un incidente stradale e scopriremo che l'uomo che ha causato questo incidente è in realtà un personaggio abbastanza dal quale loro si dovrebbero tenere lontane ma data l'ostinazione la cocciutaggine di constance ma soprattutto il suo desiderio di giustizia inizieranno una serie di peripezie che hanno per protagoniste le sorelle e quest'uomo più i suoi scagnozzi diciamo che appunto stravolgeranno un po la vita non solo delle sorelle ma anche di questa piccola cittadina dove vivono dico che avrei voluto più profondità perché questo libro secondo me è veramente di una leggerezza sconcertante considerando che comunque si parla di emancipazione femminile di violenza delle condizioni degli operai a inizio novecento in america e insomma di tutta una serie di dell'idea di giustizia di queste donne che non hanno modo di difendersi da sole insomma c'era abbastanza carne al fuoco e abbastanza ciccia per farne veramente un bel libro invece si limita ad essere un libro piacevole scorrevolissimo si divorano quelle 400 pagine in un attimo perché è una storia veramente super scorrevole ma un po per il fatto che l'ho trovato un pochino ripetitivo e che la caratterizzazione dei personaggi secondo me non è abbastanza approfondita considerando che è un libro bello lungo e quindi il tempo il modo per caratterizzare bene queste donne c'era onestamente sono rimasta un pochino delusa sapevo assolutamente che si trattava di un libro leggero ma insomma non è che mi aspettassi il capolavoro del femminismo americano però ci sarebbero stati tanti spunti e tante occasioni secondo me per rendere questo libro qualcosa di più profondo detto ciò ho visto che il secondo della saga è presente su audible in audiolibro quindi in un momento di evasione magari me lo ascolterò così per curiosità e vedrò insomma come procede la storia però appunto avrei voluto qualcosina in più poi vi parlo degli ultimi due titoli che ho ascoltato durante il mese di luglio comincio da il trucco c'è e si vede di beatrice mautino questo è un testo molto diverso da ciò che sono di solito insomma abituata a leggere o ascoltare ma veramente molto interessante è un testo con approccio scientifico che però parla non solo dell'aspetto scientifico ma anche del marketing nella vendita formulazione e presentazione dei prodotti cosmetici si parla di shampoo skin care prodotti ingredienti diciamo di prodotti che usiamo quotidianamente e soprattutto si cerca un po di sfatare quei miti che nel corso del tempo nel corso di passaparola tam tam mediatici e quant'altro si costruiscono intorno a determinati prodotti ingredienti parlo per esempio di dei famosissimi siliconi e parabeni tanto demonizzati nei prodotti che usiamo quotidianamente e di tutti quei senza che i prodotti tendono a pubblicizzare sulle proprie confezioni quindi senza siliconi senza parabeni senza questo e senza quello questo libro analizza veramente in maniera molto approfondita ma anche molto semplice da capire tutti quelli che sono i vari meccanismi i falsi miti e anche le tecniche di marketing nel presentare questo tipo di prodotti per renderci un pochino più consapevoli di quello che ci stiamo mettendo addosso e in faccia ma anche per aiutarci un pochino a districarci nelle varie comunicazioni intorno a questi prodotti quindi io l'ho trovato veramente molto utile devo dire la verità è il tipo di testo che preferirei avere in cartaceo quindi poi se troverò il modo magari lo recupererò perché ci sono veramente tante informazioni scientifiche tanti riferimenti a studi che sono stati fatti ad articoli scientifici che andrebbero tenuti a disposizione all'occorrenza se si vuole controllare qualcosa quindi è stato molto piacevole ascoltarlo tra l'altro è letto dall'autrice però devo dire la verità mi piacerebbe poi possederlo per usarlo eventualmente come riferimento comunque è stata veramente una scoperta ed è stato un ascolto molto interessante perché appunto usa una terminologia a portata di mano per tutti noi per aiutarci un po' a districarci come consumatori in maniera un pochino più responsabile quindi se vi interessa l'argomento assolutamente consigliatissimo perché insomma è un testo secondo me fatto molto bene e soprattutto da una fonte autorevole che è secondo me la cosa più importante quando vogliamo districarci in questo tipo di informazioni ultimo ma non ultimo è un libro che mi incuriosiva da morire fin da quando ne avevo sentito parlare le primissime volte appena era uscito e si tratta di La figlia unica di Guadalupe Nettel questo testo che avevo appunto visto in cartaceo e che ho deciso di ascoltare sempre su Hollywood perché appunto mi incuriosiva tantissimo mi incuriosiva perché si parla di maternità e si parla di maternità in un modo veramente molto diverso da quello a cui siamo abituate e abituati è un romanzo che racconta la storia di tre donne è ambientato in Messico e offre tre punti di vista sulla maternità o sulla scelta di non avere figli piuttosto crudi taglienti e potenti secondo me abbiamo una protagonista che è Laura ed è una donna che ha scelto di non avere figli ha fatto una scelta anche molto radicale dal punto di vista medico la sua migliore amica Alina che aveva anche lei fino ad un certo punto della sua vita ha deciso di non avere figli e poi invece ricorre a qualsiasi metodo per rimanere incinta e poi abbiamo Doris che è la vicina di casa di Laura che invece ha un rapporto molto difficoltoso e molto tormentato con suo figlio e Laura in qualche modo viene coinvolta in questa dinamica è un libro veramente che parla della maternità con un tono così crudo e doloroso che secondo me dovete sapere a cosa andate incontro se decidete di leggerlo usa veramente dei toni molto forti racconta delle storie veramente molto forti e racconta come effettivamente la maternità sia qualcosa che non si può assolutamente dare in qualche modo per scontata qualcosa su cui riflettere qualcosa da imparare anche giorno per giorno a gestire io l'ho trovato veramente doloroso e allo stesso tempo intenso allo stesso tempo in un certo senso necessario perché secondo me mancano un po in letteratura delle riflessioni fuori dal coro sulla maternità o almeno io non sono riuscita ancora a trovarne tante per qualche verso questo libro mi ha ricordato la figlia oscura di Elena Ferrante e in generale un po il modo in cui Elena Ferrante parla della maternità anche in maniera un po sgradevole e un po cruda e devo dire che secondo me parla un po allo stesso tipo di lettrice o di lettore quindi se cercate un'esperienza molto forte di lettura che ha al suo centro pulsante la maternità questa è la lettura che fa per voi però secondo me bisogna essere preparati a veramente il classico pugno nello stomaco nel modo in cui certe riflessioni anche certi eventi vengono raccontati quindi io l'ho trovato veramente appunto una lettura necessaria forte dolorosa ma allo stesso tempo veramente molto intensa insomma forse non per tutti però secondo me se cercate qualcosa veramente di completamente fuori dal coro vi potrebbe interessare e anzi tra l'altro dal momento che è un tema che mi interessa e mi interessa appunto quando viene affrontato in maniera un po fuori dal coro un po priva di zucchero e di insomma stereotipi anche fatemi sapere qui sotto se conoscete altri titoli che affrontano questo tema in questo modo perché potrebbero essere molto interessanti per me io chiudo qui perché ho parlato tantissimo vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi se siete arrivati fin qui grazie mille fatemi sapere qui sotto se conoscete qualcuno di questi titoli o se avete appunto altri titoli simili da consigliarmi e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao